Voglio fare questo video per raccontare le prime impressioni nell'utilizzo di diverse librerie Python di analisi musicale in formato simbolico, ovvero con formati come il MIDI che sono fatti per rappresentare eventi di tipo simbolico come l'altezza o la durata di una nota piuttosto che la forma d'onda di un suono. Ho utilizzato principalmente tre librerie, Music21, MusePy, MusicEyes e una quarta, Mingus che però si è rivelata poco in linea con i miei obiettivi che erano quelli di trovare uno strumento che mi desse delle funzionalità già precostituite per l'analisi dei parametri musicali che mi interessavano. Quindi in questo video vedremo solamente alcune delle funzionalità di analisi tralasciando quelle che sono per esempio le possibilità di importazione di altri formati, di sintesi audio o di rappresentazione e generazione musicale attraverso partiture o piano roll. Iniziamo a vedere queste librerie, la prima si chiama Music21 possiamo vedere dal suo GitHub è stata creata nel 2006 nella Massachusetts Institute of Technology e attualmente è alla versione 9 è rilasciata con una licenza BSD e viene descritta come uno strumento di analisi assistita al computer per la musicologia computazionale. La seconda libreria, Muspy, è attualmente la versione 0.5 e la prima release è del 2020 è rilasciata sotto licenza MIT si presenta come uno strumento di generazione musicale che offre anche funzionalità di import dei dataset online e ha anche funzionalità di preprocessing e valutazione di modelli Per quanto riguarda la libreria MusicEyes questa è stata rilasciata con una licenza AGPL 3 e attualmente è la versione 1.2 la prima release è del 2022 e viene descritta come una libreria di generazione di musica simbolica visualizzazione e analisi anche questa ha delle funzionalità di valutazione di modelli e di visualizzazione l'ultima libreria Mingus ha uno sviluppo fermo al 2020 ed è ferma alla versione 0.6 è stata rilasciata con licenza GPL 3.0 e viene presentata come un package per programmatori, musicisti e compositori e offre anche funzionalità di composizione e di riproduzione ecco andiamo a vedere più da vicino le documentazioni delle librerie music21 ha un sito web molto articolato e con una guida utente che è improntata specialmente sulla creazione degli oggetti della libreria stessa come si può vedere dalla figura l'oggetto musicale che viene importato e rappresentato nella libreria ha una struttura gerarchica di contenitori e di oggetti contenuti all'interno di essi per ottenere i parametri musicali contenuti all'interno bisogna chiamare dei metodi che espongono gli stessi oggetti e dalla documentazione non è sempre ben chiaro come ottenere questi parametri per cui per la mia esperienza l'utilizzo di questa libreria è stato quello che ha avuto una curva di apprendimento molto ripida rispetto alle altre per quanto riguarda MusePy e MusicEyes il loro sito web è molto più chiaro e diretto nell'ottenere le informazioni che mi servivano si può vedere la rappresentazione delle classi della libreria MusePy in questa pagina e i metodi di analisi sono contenuti nella sezione Matrix invece possiamo vedere altre funzionalità come la sintesi, la visualizzazione e l'importazione dai dataset per il sito di MusicEyes notiamo come la libreria vuole essere uno strumento che offre funzionalità diverse dalla visualizzazione alla valutazione di modelli di intelligenza artificiale alla generazione musicale stessa anche qui troviamo nelle varie sezioni i metodi che andremo ad utilizzare per Mingus abbiamo anche qui un sito che ci offre un tutorial e la presentazione delle funzionalità che sono più che altro di rappresentazione in base alla teoria musicale di processamento e di riproduzione andiamo a vedere qui come si comportano le librerie nell'importazione di un file MIDI che ho scelto essere il preludio del clavicembalo ben temperato volume 1 di Bach vediamo subito le differenze dell'oggetto che viene rappresentato in quanto Music21 crea un oggetto stream che può essere mostrato dentro Jupyter Notebook solamente attraverso un metodo come dicevamo prima e viene mostrata la struttura di oggetti contenitori e contenuti con a fianco il timestamp a cui ogni oggetto compare nello stream per quanto riguarda MusePy è possibile invece visualizzare fin da subito l'oggetto importato attraverso un print e possiamo vedere all'interno le sue classi e la stessa cosa Music e Eyes mostra più facilmente gli attributi musicali che sono contenuti all'interno della rappresentazione dell'oggetto purtroppo come vediamo qui la libreria Mingus non fornisce invece una struttura che è di facile elaborazione infatti l'oggetto rappresentato è semplicemente una successione di parametri numerici che però sono privi di una classificazione adeguata che mi permette un utilizzo diretto per cui non ho non ho continuato nell'uso di questa libreria per le analisi una volta importato il file MIDI ho iniziato alcune analisi come la ricerca delle note più alte e più basse e del range di note contenute che nella libreria MusePy viene chiamato Ambitus questa operazione restituisce un oggetto intervallo su cui poi è possibile ottenere il valore dell'intervallo in formato numerico attraverso un ulteriore passaggio e da qui poi è possibile anche ottenere la nota più alta e più bassa per la libreria MusePy la stessa operazione è possibile in parte attraverso il metodo pitch range otteniamo direttamente il numero di semitoni coinvolti dopodiché possiamo possiamo chiamare altri metodi di analisi come il numero delle note utilizzate e il numero delle pitch classis utilizzate all'interno di un'ottava dopodiché MusePy offre altre funzionalità di tipo statistico per sapere informazioni sulla polifonia ovvero quante note in media vengono suonate contemporaneamente polifoni rate ovvero la frequenza di note simultanee per ogni passo temporale della successione di note e qui possiamo vedere sul sito web i vari metodi di analisi che sono più che altro statistici e offrono informazioni sulla scala sulla consistenza delle note rispetto a una scala o informazioni legate all'entropia ovvero al al grado di ordine di note all'interno della successione secondo la teoria della comunicazione di Shannon simili analisi possono essere fatte anche con music e eyes attraverso get pitch range ho ottenuto il range di semitoni dopo di che ho ottenuto le classi di altezza rappresentate all'interno di un'ottava e vedete qui music e eyes offre automaticamente a fianco ogni nota il numero di note che vengono utilizzate per ogni classe di altezza sul sito web di music e eyes possiamo vedere anche altri metodi di analisi e di rappresentazione suddivisi secondo l'armonia la scala gli accordi e gli intervalli utilizzati dopo di che sono passato al riconoscimento della tonalità music 21 offre differenti metodi per riconoscere la tonalità che possono essere quelli all'interno di tutto quanto il brano oppure di parti ridotte della sequenza musicale qui possiamo vedere come ha riconosciuto la tonalità generale come la tonalità di Do e successivamente attraverso quest'altro metodo Get Row Key by measure riusciamo a ottenere una stima delle tonalità all'interno di ogni singola misura questa può essere una misura eccessiva che può anche dare risultati forvianti se la tonalità non cambia ogni misura per quanto riguarda Muse by l'informazione sulla tonalità viene data in maniera percentuale rispetto ad un'altezza di riferimento 0 in questo caso vuol dire Do e una modalità un modo che in questo caso corrisponde al Do maggiore possiamo vedere che nel preludio del clavicembro ben temperato viene data una un riconoscimento della tonalità di Do maggiore di 0.93 ovviamente molto alto rispetto alla tonalità di Do noi potremmo fare la stessa operazione riferite ad altri ad altre tonalità come ho fatto successivamente con degli esempi che avevo avevo creato ad hoc e possiamo paragonare le note contenute rispetto ad altre tonalità come ho fatto in questo caso rispetto a Do diesis minore o a Do minore music eyes invece offre la possibilità di riconoscere la tonalità attraverso differenti algoritmi in questo caso ho utilizzato l'algoritmo di default che ha restituito Do maggiore ma come possiamo vedere c'è la possibilità di utilizzare differenti modelli sviluppati da differenti autori sono passato quindi ad ottenere le note contenute all'interno della successione con la libreria music 21 è possibile questo utilizzando il metodo flatten perché come dicevamo prima la rappresentazione gerarchica suddivide la successione all'interno di diverse parti che corrispondono ai diversi strumenti suonati in una partitura dopodiché è possibile chiedere ad ogni nota l'altezza la durata la velocity e l'articolazione invece un un metodo che ho trovato particolarmente comodo è stato Cordify che trasforma le differenti parti in un'unica parte e analizza le note verticalmente come se facessero parte dove è possibile di accordi quindi attraverso questo metodo Cordify è possibile ottenere il riconoscimento di ogni armonia e possiamo vedere che viene affiancata un'interpretazione verbale alle note coinvolte alle altezze coinvolte e alla misura a cui l'accordo avviene vediamo inoltre che che la libreria offre altri metodi come come questo interval vector che si riferisce a un vettore che ha come elementi semitoni che vanno dalla seconda minore alla quarta aumentata e in questo caso ho voluto far analizzare l'intervallo di do e sol bemolle music 21 utilizza il segno meno per identificare il bemolle e quindi do sol bemolle corrisponde a una quinta bemolle che viene appunto riconosciuta come un un vettore che ha rappresentato 1 nella casella corrispondente non ho trovato un metodo simile in MusePy e in MusicEyes invece MusicEyes offre dei metodi come questo che restituiscono le note contenute in un particolare bit di riferimento oppure come possiamo vedere sul sito la possibilità di calcolare la matrice di autosimilarità rispetto ai parametri che ci interessano per cui le considerazioni conclusive rispetto all'utilizzo di queste liberie sono state che anche se Music21 ha una serie di metodi più difficili da imparare e ha una curva di apprendimento più ripida è sicuramente quella più ricca ad oggi e quella che offre un maggior numero di esempi in rete però allo stesso tempo MusePy e MusicEyes offrono dei metodi statistici soprattutto che non sono presenti nativamente in Music21 quindi potrebbe essere utile un utilizzo combinato di queste liberie a seconda degli obiettivi dell'analisi c'è da dire che queste ultime liberie sono molto più recenti rispetto a Music21 quindi si spera che lo sviluppo possa continuare e aumentare le funzionalità offerte che